ma non so la versione della playstation no io la so bene da youtube io ti dico davvero? si però mi dici in attesa ecco qua ma come avete fatto a trovarlo scusa? spacchettamento epico? no perchè qua che vedo sul tuo e ti metto a guardare la trasmissione ah ok ok cosa vedi? ora vedo la schermata oh no la trasmissione come andiamo con insieme? vai vai comunque io ti muto e ti sanno dalla play vai ok ok vabbè e poi non ti sento però si se mi muti beh è scemo non lo sento più ma così dove cazzo devo andare qua? bottino no dove cazzo sta? eccolo eccolo sai vedere? chi ci stai non da gnazki manuele ci stai? si vai 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 dai poi lascio manuele ah si devi andare su di me non lo so gnazki come si fa? ah si vai su di me ci sta trasmissione fai guarda si sono a play va bene va in patti, va in patti qua verso il tono lo mette a guardare la trasmissione mi piacciono il mismo dico non ci sei a manuele che che spacchetto va ci sei? no 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 acquista oddio non c'è BV Bugs oddio eccolo eccolo ecco ricetto attenzione attenzione con calma 500 pacchettini ok ok e questo che è oh che ne ho io raga sono persi da dire perché non ce l'ho super city uh uh e uno ok 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 allora ti coglioni bravo eh difensore raro progetto raro progetto raro che pio progetto raro attenzione attenzione ramma fucile laser ok mi mancava attenzione va un po' fecchino un super city epico lama lama furia la zoccolona nata zoccolona un coglione la zoccolona attenzione ahhh soldato epico ninja epico che pio ninja ninja è carina soldato giacente uuuuuh eccolo iniziamo trappola gas falò e cazzo questa roba oh oh oddio arma 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 o difensore leggendario raga no arma 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 attenzione ragazzi signori miei signori 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 bam somma la merda l'uomo 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 è andato bene con le trappole però apri pure mo puoi aprire la ma con i biglietti ma merda un poche parole mi puoi risparmiassi cazzone vabbè i trappole sono buone quelle che è andato stop an' insta live molto mi ha visto quanti erano i miei presi poche ah si è sfortuna come si interrompe grazie